Quattro nuovi centri vaccinali a Ronchi dei Legionari, Cormon, Saurisina e Muggia apriranno la settimana prossima in concomitanza con l'arrivo di nuove dosi di vaccino Pfizer e Moderna. Domani si apriranno le agende per la prenotazione delle inoculazioni in quei centri. A darne notizia il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Per dare un'accelerata e avvicinarci così all'obiettivo delle 10.000 vaccinazioni al giorno in regione, spiega il vice governatore, abbiamo deciso di attivare dalla prossima settimana quattro nuovi punti vaccinali nell'area Giuliani-Zontina. Il 4 e 5 maggio sarà operativo quello di Ronchi allestito all'interno della palestra comunale in via Fratelli Cervi dove dalle 8 alle 15 verranno inoculate le prime 354 dosi di vaccino Pfizer, seconde dosi il 25 e 26 maggio stesso orario. Sempre delle stesse due giornate ma ad Aurisina con orario 8.14 nella palestra comunale Usai di via Sabo saranno inoculate le prime 308 prime dosi di Moderna, le seconde dosi il primo e il 2 giugno. Il 6 maggio dalle 16 alle 20 e il 7 maggio dalle 15 alle 19 prenderanno in via le vaccinazioni a Cormons presso l'area ambulatoriale del distretto Alto Isontilo in viale Venezia Giulia utilizzando 204 prime dosi di Pfizer, 27 e 28 maggio le seconde dosi mentre nelle stesse date ma a Muggia dalle 8 alle 14 nella palestra Pacco di via D'Annunzio saranno inoculate 308 prime dosi di Moderna, 3 e 4 giugno le seconde dosi. L'avvio dell'attività in questi centri risponde alla necessità di aumentare le postazioni disponibili in modo da anticipare il più possibile le somministrazioni alle categorie prioritarie vale a dire gli over 80, i fragili e i caregiver. Inoltre da oggi, aggiunge Riccardi, Asugi ha aperto le agende per ulteriori posti alla centrale idrodinamica di Trieste, la fiera di Gorizia e il centro anziani di Monfalcone per la giornata del primo maggio. Per quanto riguarda infine grado, Asugi prevede come sede di vaccinazione il distretto che sarà attivata quando verrà comunicata con certezza la data di arrivo dei vaccini. Grazie. Grazie.